Stavo da solo a casa, ma non vi preoccupate oggi che sono buona volta E che mi mangi? Che non mi mangi? Ah sì, ma ora mi taglio due pomarole Una franga di olive verde Non tenevo quella senza il turzo Quindi l'ho rustucato con un cutlassing del tuorno tuorno La arte povera E all'ingra è stato bello e buono E per non cambiare Mi ha caduto dentro una bella scatuletta di tunno L'ho accuggiato con una bella rattata di pepe Una ponte di sale E un paro di fronni di vasini cola Miscate bene bene tutto il sistema ortopedico Se potete, perché non schiattate anche un po' il tunno Perché a me piace appappoggiare Un bel filo roggio extravergine di olivia E ora ci vuole il pane Ma non tenevo quello sreticcio Tenevo neanche le freselle E ho preso queste E i bruschettini Stavano anche scadendo E ho detto prima che scadisci Meglio che ti si magno E semplicemente prendete tutta la pappoggia E la navigate sopra Vi raccomando però mettetelo sistemato Perché anche l'occhio vuole la sua parte Visto che a me mi piacciono le cose inzevate Ho messo un altro filo roggio Voi chiudete gli occhi, non guardate Voilà, abbiamo fatto Le bruschettini facili, veloci e troppo saporite E come sembra Buon appetito